Giù le mani dai bambini! Giù le mani dai bambini! Ci sono anche quelli che fanno parte di un sistema e bisogna dire le cose come stanno. Questo è un sistema e non è solo Bibiano, Bibiano è la punta dell'iceberg. Cosa chiedete? Noi chiediamo intanto che venga fatta chiarezza assolutamente e poi bisogna che chi ha sbagliato deve pagare, perché se non pagano, e purtroppo lo dicevo alla signora prima, che ci sono dei giudici che nonostante ci siano delle prove inconfutabili, che ci sono stati degli errori, non ti permettono di processare le persone che hanno sbagliato. Quindi vuol dire che c'è un sistema dietro che comunque va di protezione anche quando ci sono le prove che queste persone hanno fatto delle cose che non dovevano fare. Casa subito! I bambini a casa subito! I bambini a casa subito! I bambini non si devono fare soffrire! Gli assistenti sociali non devono avere il potere di portare via una famiglia scrivendo quattro righe su un foglio. Ci devono essere delle prove chiare. Ma non è possibile che se due genitori magari litigano, però perché sono in difficoltà economiche, faccio per fare sempre un esempio e non sono esempi buttati lì, che arrivi qualcuno che chiama gli assistenti sociali e questi arrivano lì e dicono eh no ma il bambino non è tenuto bene, il bambino non è vestito bene, il bambino non deve stare in questo clima e ti portano via il figlio. No, gli assistenti sociali devono aiutare le famiglie, quindi devono entrare armoniosamente in una famiglia, capire quali sono i problemi e cercare di aiutare le famiglie a risolverli. Si può anche allontanare il figlio, ma soltanto per un periodo limitato dove si cerca di rimettere a posto o quantomeno di capire dove stanno i problemi della famiglia, aiutandoli però, aiutandoli, perché questo non viene fatto in molti casi, le famiglie non vengono aiutate, cioè certe cose ti fanno capire se un genitore... quando una famiglia ti chiede, la prima cosa che ti chiede sono aiuti per il figlio, che ti chiedono non so il latte, ti chiedono i pannolini, cioè non stanno chiedendo qualcosa per loro, stanno chiedendo qualcosa per il loro figlio, quindi vuol dire che ci tengono i loro figli, giusto? Quindi perché gli assistenti sociali invece di aiutarli in fare quello che magari facciamo noi non lo fanno loro? Perché dobbiamo essere noi privati che magari andiamo lì e li aiutiamo economicamente e loro non lo fanno? Io mi chiedo anche questo, perché purtroppo accade che queste famiglie non solo non vengono aiutate, ma magari sono costrette poi ad aggravi, perché devono prendere un avvocato e questi, un avvocato non costa due lire e non tutti se lo possono permettere. Magari questi non vanno neanche dal dottore, perché magari stanno male, non comprano neanche le medicine. Ragazzi, ci sono situazioni veramente assurde, in questo paese ci sono delle situazioni che descriverle è difficile, perché ci sono persone che rinunciano alle cure mediche, magari perché hanno bisogno dell'avvocato, perché hanno bisogno di andare dall'avvocato e quindi non si curano, magari mangiano una volta al giorno. Non è più possibile pensare a una cosa del genere. Questo è un massacro, scusatemi, ma questo è un massacro. Stanno massacrando le famiglie italiane. Questa è la verità. Diciamocela una volta per tutte, senza girarci intorno. Col cartello. Adesso non c'è più il partito di Bibiano, addirittura chi è il ministro della famiglia? Ecco, e loro questo devono guardare, chi veramente devono togliere. Genitore di Modena, qua a Fornovo, sede di diverse case famiglie, per denunciare un problema che è comune. Da Bibiano ormai è esploso in tutta la regione, di fatto. Abbiamo verificato che ci sono centinaia di casi in diverse parti d'Italia, quindi è diventato un fenomeno diffuso in tutta l'Italia con un sistema dietro. Il sistema dietro è utilizzare i bambini, molti di questi bambini se non tutti, per elevarli dalle famiglie e portarli in case famiglie. In questo modo le strutture percepiscono centinaia di euro per visite, per colloqui e per poter tenere questi bambini. Questi bambini vengono dati in affido provvisoriamente, ma questo affido molte volte si rinnova e molte volte questi bambini non ritornano più a casa e vengono prelevati soprattutto a famiglie che hanno problemi o di povertà, nel senso che hanno perso il lavoro, o problemi di divisione col coniuge, o problemi di case e molto spesso queste famiglie si rivolgono agli stessi assistenti sociali, ai servizi per poter avere un aiuto, ma mentre inizialmente sembra un aiuto, molte volte diventa un motivo per sottrarre i bambini, con anche delle cose molto semplici, quali la casa sporca non riesce a tenere dietro i tuoi figli, quale ad esempio tu non hai la patente, non puoi portare i tuoi figli dove vogliono per il gioco, il divertimento, tu non hai un lavoro fisso, non puoi garantire il mantenimento per i tuoi figli. Questi sono tra i motivi per i quali un assistente sociale può decidere di prelevare un bambino. Ora che questo sistema è emerso, che cosa bisognerebbe fare perché non venga tutto riseppellito e possa non ripetersi? Ecco, noi come Comitato prima di tutto vogliamo stare vicino a queste famiglie come vicinanza affettiva di condivisione e poi far conoscere questo problema a più persone, perché finalmente grazie a Pablo Trincia con il libro Veleno sui casi della bassa modenese ha avuto un riscontro nazionale e anche col fatto di Bibiano si stanno rivedendo queste cose e si stanno conoscendo a livello nazionale. Quindi stare vicino alle famiglie, aiutare anche nelle cose semplici la condivisione, l'affetto, l'essere qui presenti insieme a loro e poi anche far presente che questo è un sistema diffuso e dove c'è anche un vulnus a livello legislativo quando si permette a delle semplici assistenti sociali di prelevare dei bambini su indicazioni molto vaghe senza delle prove, questo è il fatto. Quindi c'è un problema anche legislativo che permette questo all'assistente sociale, una cosa abominevole. È peggio che andare a rubare un frigorifero o in casa perché vengono di notte e prelevano i bambini con tutti i carabinieri e tu non puoi fare niente. Questo è uno schifo. Ci vogliono delle leggi che tutelino i bambini e ci vuole delle leggi che con prove certe vere verificate possono agire sulla famiglia soprattutto però cercando che il bambino rimanga e in ultime estremis prelevare il bambino in caso grave di situazione e chiaramente di gravità enorme, allora in quel caso è giusto prelevare il bambino dalla famiglia. Ma questo deve essere l'ultima razza, ma gli assistenti sociali la fanno diventare la prima razza, con anche degli esempi e o a volte degli intendimenti che sono tipici di certi assistenti sociali che non conoscono bene o non hanno avuto esperienza come noi nei diavoli della bassa modenese che erano assistenti sociali o psicologi appena laureati e non sapevano niente e si sono permessi di portare via dei figli e dei bambini. Ci sono dei genitori che sono disgraziati e si lamentano perché li portano via i figli, ma bisogna vedere bene i motivi per cui li riportano via, non è perché sono poveri è perché sono dei disgraziati. Quindi questa storia di Bibiano come la vede un po'? Di Bibiano c'è qualcuno colpevole che deve pagare caro perché i bambini non si toccano, assolutamente, però non bisogna generalizzare, adesso ci sono dei bambini terrorizzati sulle comunità perché gli hanno detto che ci sono dei cattivi che vanno su, i più grandi gli hanno detto, non gli educatori naturalmente, cioè non è giusto neanche fare così. Cioè non si vogliono toccare i bambini ma si toccano anche in questo modo, quindi io sono volontaria da 14 anni in una comunità, quindi non ci guadagno niente e so che ci sono dei ragazzi che arrivano lì distrutti e ritrovano la serenità invece e delle volte mandarli a casa è la loro rovina, non sempre. Sono d'accordo che bisogna controllare molto bene, quello sì, però non che ci si debba fare tutto di un'erba un fascio.